L'Italia deve riscoprire, e lo sta facendo, la sua storica vocazione agricola. Da questa premessa ha avuto avvio un incontro a Taranto organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore con la collaborazione della Camera di Commercio dal titolo Economia Civile e Mondo dell'Agricoltura Oggi per un nuovo sviluppo del Paese. Al tavolo dei relatori, di esperti del settore, tra il pubblico decine di imprenditori agricoli. Al centro del dibattito, la cosiddetta agricoltura multifunzionale, che tenga cioè conto anche del sociale. Un modello già in fase di sperimentazione in Italia che riguarda il 30% circa delle aziende. Sostanzialmente si riesce a coniugare la capacità di fare reddito e produzione con un innalzamento della qualità della vita ed il miglioramento del territorio. Questo modello è forse l'unico reale e realizzabile per rilanciare l'economia italiana. Agricoltura alla base e di conseguenza cibo, paesaggio, cultura e turismo. Anche la Regione Puglia sta lavorando in questa direzione. L'assessore al ramo, Fabrizio Nardoni. Noi come Regione Puglia stiamo lavorando anche su una legge che stiamo per trasferire in commissione appunto sull'agricoltura sociale perché siamo ben convinti che questa parte dell'agricoltura deve essere ancora più rivalutata. Abbiamo lavorato con la scorsa programmazione con i GAL sul tema dell'agricoltura sociale e dobbiamo adesso noi direttamente come Governo regionale intervenire su questa iniziativa.